L'ultima parola è del ministro della giustizia, spetta al neo guarda sigilli Andrea Orlando decidere se prorogare o meno il 41 bis al boss Bernardo Provenzano, detenuto a Parma da tempo malato. Per le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta non ci sarebbe più gli estremi per applicare il regime del carcere duro ed hanno dato parere negativo alla proroga. Per i PM il capo mafia gravemente malato e incapace di partecipare ai processi non sarebbe in grado di comunicare con l'esterno e siccome il carcere duro è finalizzato proprio a evitare i contatti dei boss con l'esterno, una proroga del 41 bis per il capo mafia corleonese sarebbe inutile. E' questa la valutazione che i PM antimafia hanno fornito sulla base della legge che prevede ogni due anni un nuovo parere che verrà vagliato dal guarda sigilli che decide se prorogare o meno il regime detentivo speciale. Intanto, dopo Palermo, la settimana scorsa, oggi la Commissione parlamentare antimafia ha fatto tappa a Catania per una serie di audizioni. Una visita scandita dalla polemica tra il presidente Rosi Bindi e il consiglio direttivo degli ordini forensi della Sicilia. Agli avvocati siciliani non è piaciuta una dichiarazione della Bindi in occasione dell'audizione del prefetto Giuseppe Caruso avvenuta a Palermo che ha parlato di avvocati contigui con Cosa Nostra. La Bindi si dimette alla risposta arrivata dal consiglio dell'ordine che giudica le parole della presidente esponente del PD assolutamente inesatte, improprie e approssimative e soprattutto frutto di un'inquietante e distorta visione della vocatura italiana. La Bindi in particolare aveva lamentato il fatto della mancata cancellazione dall'ordine dei colleghi finiti in galera, magari per reati mafiosi, o che in nome del diritto alla difesa di ogni imputato diventano complici del proprio imputato. Lo sappiamo perfettamente, una delle questioni di cui questa Commissione vorrà interessarsi, aveva sottolineato la Bindi, è a margine della visita della Commissione e anche la presa di posizione del vicepresidente Claudio Fava, che aveva definito inopportuna la visita di ieri del ministro Alfano all'editore della Sicilia Mario Ciancio, indagato per turbativa d'asta. O fa il leader del partito, incontra chi vuole, o fa il ministro ed evita di incontrare indagati. Da parte sua Ciancio in una nota precisa di non essere indagato per turbativa d'asta è che sul reato per il quale è indagato la procura ha chiesto l'archiviazione.